Ci siamo le ragazze carine, stupende, brave, quelle più tremende, le pepate, quelle che vi fanno girare la testa dalle forme stupende, dalla moto e dalle loro gambe. Wow, come ti chiami? Jessica. Wow, che nome? E tu? Sandra. Sandra, e tu? Come ti chiami tu? Rebecca. Wow, e tu? Sia. Fantastico, il Penelope è il locale che ci farà divertire ad Aulla il primo giugno, non ce n'è per nessuno. Ci siamo, si va in campanina al forte, grazie a Marco che è, è lui, quello del palo, è lui, lo vedete, è lui Marco, perché lui è il numero uno, non ce n'è per nessuno. Facevamo i raduni in campanina, quanti anni fa? Nel 2000, vero? 2000, 2000. Grande, Penelope, le donne che fanno la festa, sexy disco, e noi siamo la festa. Ciao grande, Spider-Man Club a Lucca. Un bacio? Ciao, e le brave ragazze che si chiama? Isa, Sara. Sara. Stupendissima, è stupendissima. Ciao.